Immobiliare.it annuncia l'intenzione di trasferire a Roma 48 dei circa 200 dipendenti della sede milanese con un preavviso di 45 giorni e tra i lavoratori dell'azienda scatta la protesta. Per i sindacati si tratta di un licenziamento mascherato e mirato. Tra i 48 destinatari del provvedimento ci sono la quasi totalità degli iscritti al sindacato, neogenitori, persone che usufruiscono delle tutele previste dalla legge 104 e categorie protette. L'azienda ha proposto ai lavoratori un contributo economico in cambio delle dimissioni consensuali che è stato rispinto al mittente perché, continuano i sindacati, i diritti dei lavoratori, a differenza delle case, non sono in vendita. In merito alla questione Immobiliare.it parla di processo di riorganizzazione in atto guidato alle nuove esigenze di sviluppo del business in aree strategiche del paese. Dunque questo processo di trasferimento in corso si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione aziendale che ha come obiettivo lo sviluppo di aree strategiche del nostro business e di focalizzarsi su aree geografiche di interesse connesse proprio alla nostra attività tipica. Il trasferimento riguarda pochi team della sede di Milano verso la sede storica di Roma che è da sempre sede della nostra società e ha come obiettivo appunto il potenziamento del polo commerciale di Roma e quindi il trasferimento attiene principalmente i team che si occupano delle aree centro-sud proprio perché noi riteniamo che lo sviluppo di questo business sarà incentrato principalmente su queste aree del nostro paese. Oltre a questo c'è una tendenza generale della nostra società ad avvicinare sempre più le funzioni al prodotto, prodotto che in tutte le società digital ha un ruolo centrale e la sede del nostro prodotto è a Roma e quindi conseguentemente questo è lo scenario in cui si inquadra la situazione che stiamo vivendo in questi giorni.